qui siamo siamo in diretta siamo in stand by buonasera a tutti e tutte yeah cominciamo che cos'è per me la poesia svolgimento cercassi ancora la poesia andrei a stanarla lì dove non conosce gabbie lontano dagli esseri umani ma viviamo in una società che si nutre di se stessi ed ognuno ha cibo defecato per gli altri essendo cresciuto in una realtà a Firenze che abborrisce la poesia e rifiuta una se non sia omologata nell'esaltazione autoreferenziale c'è che il giorno di intimità essendo io di radici del Bane mi sono fin da bambino reso conto di un naturale isolamento personale il quale scende scoprendo me stesso nelle mie inclinazioni sentimentali poetiche parallelamente alle cose reali della vita cioè come volgarmente gira il mondo aggiunto la consapevolezza di come in toscana fossi in un buco nero culturale in contrapposizione ai due grandi centri nazionali di aggregazione per il nord del paese milano e per il sud roma e poi io nella valle di nessuno figlio di nessuno e una illuminazione che quando te ne accorgi uccide la tua poesia perdi completamente la misura di te stesso e ti metti a rincorrere di pistrelli che all'inizio scambi per aquiloni fine della poesia scritta inizio di quella pubblicata e recitata bambino con la penna in mano non scriverai mai più e ti limiterai nei generosi soli di primavera a colorare lungo i bordi la cosa triste è che quando ne parlo con altri poeti e poete mi guardano straniti e confessano di non capire solo i marinai apoliti che leggono le stelle possono sorridere alle mie parole di sale piani di miele abituati alla sicurezza provinciale del codice di cosa era per me la poesia quando ero libero e vivo crede io scrivevo dicevo che debba liberarmi oggi dopo anni nella trincia della poesia italiana dopo che da storico mi sono reso conto di come la mia gene il potere anche da un punto di vista culturale perché la cultura è un'arma politica mi hanno ucciso per prendere il loro posto di potere poi lasciarlo solo per sovraggiunti limiti e di età adesso ai nipoti saltando noi figli dopo qualche migliaia di libri letti perché leggere ci tiene liberi dalle catene ed aver visto che in questo paese i maestri insegnano agli allievi a scrivere con i maestri e via discorrendo in un tetro che dal benbo arriva ad oggi e trovi ventenni che scrivono come loro bisnonni mentre io nella mia bolla mediterranea lontano dal stato accademico in stile arcadia mi sono potuto formare con Baudelaire e la compagna e la compagnia godereccia malata del bistro o tra l'erba fresca al tocco dello zio walt whitman o nelle camere al tocco a sudice di urla e silenzi di bucoschi o ancora nel ricordo del stretto in un abbraccio di forza a Dino Campana io che mi ascolto le lacrime di ci ha ben dovuto concedere a me stesso la verità di essere poeticamente un paria oggi nel piccolo mondo poetico nazionale ma non sono del tipo la volpe e l'uva a me spiacciono la distanza l'isolamento e l'impossibilità di comunicazione imposta della regola che solo chisso solo chissomiglia è nel club esiste e può suscitare interesse letterario non è questa la vita non è questo il mondo non è questa la poesia purtroppo sono e rimango un sentimentale ed umanista anche se nella poesia che mi c'è molto mestiere tec professionale piuttosto che sentimento ed umanismo dopo che ho iniziato a frequentare a conoscere di persone poeti mi è passata la voglia di scrivere mi sono inaridito ed ho anche smesso di leggere poesia contemporanea la noia del bello stile e la banalità dei testi mi stanno uccidendo mi chiudo nel clichy italiano sempre più malinconici fallisco l'ennesima piruetta ed evito di scrivere ecco noi gianna tarrizzo poeta amico del bello e del bello benvenuto queste erano le sue parole che ho preso in prestito per per introdurlo ha detto tante cose ha citato tante cose belle brutte della contemporaneità della poesia italiana e lo stimo molto perché è un è un tuttofare della poesia è un collega di radio no è un collega anche vi fa radio anche lui eh sputa sangue sulle parole e sulla poesia italiana contemporanea sono molto contento di averti qui con noi benvenuto va bene grazie a voi dell'ospitalità ringrazio te Stefano ringrazio Matteo del dell'occasione di poter passare questo tempo assieme a ragionare o sragionare sulla sulla poesia sulla letteratura in generale le cose da dire sono sempre tante il tempo eh orribilmente tiranno ma io sono anarchico e quindi impiccheremo l'ultimo no no fammi dire quello che fammi parlare fammi parlare impiccheremo l'ultimo maestro di poesia con le budella dell'ultimo allievo di filologia concordo concordo benamente allora noi siamo in diretta davvero bellissimo allora sono andato in quel del nord sono andato in quel del nord dal mio collega e amico Matteo che mi ha anche ospitato a fare una splendida poesia sì c'è una splendida serata di poesia a Seregno e colgo l'occasione per salutare tutte le persone che c'erano tra cui Davide Passoni e Simone Savoggini nel Fumo Magazine Matteo che ha letto e tutte le altre persone che hanno letto ho conosciuto c'ho tanti numeri c'ho tanti input questo per dire che ho letto il tuo libro nel viaggio e parto partiamo dal libro e poi partiamo dal tuo dalla tua ultima fatica per poi andare un po' indietro e insomma parlare anche un po' di poesia perché poi tutto sommato è quello che facciamo e allora Jim Ritz innanzitutto anonimo anonimato non sei tu sei un'altra persona cosa che cosa fai ti allontani dalla poesia ti nascondi dietro una narrativa dietro un poliziottesco dietro un spiegaci per che cosa fai questo ispettore di Annacci sei tu è un tuo alter ego dai allora faccio un breve riassunto per chi giustamente sia ignaro di chi io sia e perché sia al mondo l'ultimo libro che ho pubblicato il quinto non parla di poesia anche se ha uno stile prosastico poetico come dicano quelli bravi ed è un giallo almeno sulla carta dovrebbe essere un giallo si chiama un caso pop per l'ispettore Iannacci esce per le uscite per le edizioni punta a capo di Alessandria il riassunto è questo brevemente un maniaco in città sta trucidando i componenti di una boy band e nel caso inciampa un vecchio ispettore di polizia la persona più lontana possibile da quel mondo pop patinato tanto lui è stanco svogliato e prossimo a una pensione che non arriverà mai raccontato così il plot della storia poi in realtà è un romanzo filosofico scritto in appunto con una prosa poetica ma perché usare uno pseudonimo mi chiedevi perché tutto un gioco perché come spiegavo nel backstage all'amico Rusconi la letteratura italiana mi ha rotto tantissimo il cazzo e odio quanto si prenda sul serio quanto sia pomposamente ridicolmente un intreccio di cialtroni e cialtrone anche le donne perché uno sembra sempre che non puoi mai parlare male delle donne parlo male di chi scrive male punto gonfie di sé anche loro amiche alle spalle ma detto questo comunque alla fine se vai a leggere le cose che scrivano non sempre quello che leggi è bello come ti viene venduto alla lunga visto che sono anni che purtroppo mi occupo di poesia non ne potevo veramente più e allora mi sono voluto fare un regalo e ho preso una vacanza pubblicando un giallo per un po' anche per sperimentare la narrativa una cosa diversa vedere cosa succede e purtroppo non non succede nulla ma nel senso perché mi conoscono come poeta e mi chiedono quando fa una presentazione mi chiedono perché un poeta ha scritto un libro di narrativa come se non fosse la penna che scrive la poesia e la penna che scrive la prosa non avesse lo stesso inchiostro plasticamente parlando o l'anima il sangue non potesse inventarsi una cosa diversa dicevo a matteo ma se uno è un ottimo pianista non è il mio caso ma supponiamo ma anche metaforicamente non è il mio caso e non può essere polistrumentista non può scrivere o suonare anche altri strumenti è così assurdo e quindi purtroppo mi volevo prendere una vacanza non ci sono riuscito questo lo posso dire col senno di polo jim reitz è uno scherzo americaneggiato il mio nome io mi chiamo jonathan rizzo è un omaggio ai maestri dell'arboiled questo genere americano bellissimo che è alta narrativa a conti fatti come lo sono i megredi simenon o gli agatacristi per parlare di letteratura anglosassone inglese o gadda che scrive il romanesco quel fattaccio brutto di via merulana quelli sono grandi libri di narrativa non è perché hanno un pasticciaccio su sì il fattaccio brutto di pasticciaccio hai ragione scusa il non è perché hanno un una tinta gialla allora è letteratura minore come pensano qualche anima candida così della poesia italiana non lo sono il punto è come gli scrivi se scrivi male scrivi male in narrativa e scrivi male in poesia molto banale semplice ma questo chi lo decide lo deciderà chi legge con la sua critica con le sue capacità leggere insegna a leggere e questo è il problema di questo paese la gente non legge i libri queste cose bellissime che mi proteggono che ho alle spalle le persone non li comprano è vero ma quando li comprano poi non li leggono e allora che cazzo serve comprare per tenere in equilibrio allora a parte l'estetica quello che voglio dire che lo pseudonimo è un gioco questo libro è un gioco è un gioco che vuole perché questo libro parla di maschere per cui il nome è una maschera la storia è un libro contro la morale le maschere della morale ed è anche oggi diventata una critica al sistema da una critica secondo me il mio punto di vista naturalmente una critica al sistema letterario culturale artistico pseudo artistico poetico nazionale allora io ho scritto 60 pagine perché poi sono 60 pagine piccolino non rompe neanche tanto i coglioni contro tutti quelli che sono lì pronti a dire quello che è giusto è sbagliato il mio gli annacci non ha voglia di mio gli annacci il mio ispettore gli annacci che lo specchio di me non è capace a fare nulla non vuole fa nulla vuole solamente che non gli si rompa i coglioni ecco il mio gli annacci scrive poesia senza avere la penna in mano meglio di me io vorrei un attimo allora approfittare di quello che hai detto anche all'inizio sul se uno scrive è sempre lo stomaco a dettare e poi mi eviterà più gusto alla spazzatura che il sangue umano non ho capito che è successo no ti senti in ritardo e oggi siamo oggi è un macello che non me capisco non so se sono in ritardo io con la diretta o molto molto bene stava leggendo dei passaggi da lì io mi sposto perché secondo me il problema è il mio ok tanto ne approfitto perché ne approfitto perché prima hai detto no che se uno scrive male bisogna a te bisogna dirglielo no e io ho notato che c'è una sorta di di buonismo chiamiamolo così no nel mondo della poesia dove appunto si dice molte volte bello bello quello che è scritto mi piace e si omette quella che può essere la verità no che magari uno scrive un testo a scrive un testo che va a cagare no e io lo vedo una cosa molto deleteria perché alla fine non si fa un favore a chi scrive e anche alla poesia nel senso che non c'è una una critica che aiuti a a crescere e oppure a migliorare quello quello che si scrive no e voglio sapere secondo te è una mia sensazione oppure questa sorta di buonismo esiste veramente allora si può perdere la questione del buonismo perché veramente poi si 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 dà fuoco alla casa giustamente tra l'altro si farebbe guarda è un problema complicato perché se vedi le case editrici tendono a essere selettive però poi pubblicano anche tante cagate perché chi gliele propone ha delle sorte di sorte di eh come dire pezze d'appoggio assicura bacino elettorale diciamo così e quindi bisogna assicurargli il seggio se vogliamo fare una triste metafora politica per cui il problema è complicato io penso che la critica poi va da sé nel senso che le cose quando vengano lette se non piacciono piano piano vengano dimenticate tutti hanno diritto ad avere un sogno presunto presuntuosi e pretendere chissà che cosa un tempo si pubblicava tipo cento anni fa per capirsi ma ma anche cinquant'anni fa ma anche 40 anni fa si pubblicava molti meno libri e quindi pubblicare vuol dire veramente raggiungere l'obiettivo tant'è che le case editrici non stampavano cento duecento copie ma ne stampavano duemila cinquemila cioè era un investimento su di te come autore dovevi rientrare nella spesa oggi nella società di massa si pubblica un jonathan rizzo qualsiasi duecento copie tanto ce l'avrà fra parenti amici duecento persone che per pietà gli comprano il libro ecco poi se uno è come me ed è testacchione e insiste magari va avanti e arriva al quinto libro in cui è stanco di se stesso e si diverte pubblica un giallo tanto per dire ma hai qualcosa da leggerci una poesia o anche un una traccia del del libro così almeno ci entriamo un po nel libro e riusciamo un po questo sì allora va bene ora vedo che scrive che c'ha problemi di connessione quindi diciamo la scaletta voleva leggere lui alcune cose ma lo abbiamo perso ci sono ci siete cioè mi sentite sì 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 certo ah ok 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 no legge tu stefano io io non ho voglia di fare un cazzo stasera ah ok guarda io farei un altro po sul libro e poi leggo quello che cazzo mi pare a me di tuo ok però adesso lo devo ritrovare perché veramente ho veramente grossi problemi di connessione ma vabbè allora se fosse solo la connessione sì oltre a tutti i problemi che c'ho nella vita normale poi c'ho anche la connessione che va vabbè comunque ci riprovo eh qualsiasi ora del giorno sia è sempre lo stomaco a dettare i tempi e poi niente da più gusto alla spazzatura che il sangue umano prelibata colazione del mattino i tempi dettati da i bisogni primari della fame sono lì li vedo molto cioè è tutta la vita che ci combatto quindi è una cosa che mi che mi era che mi ha colpito tanto un'altra cosa bella era eh sempre di questo personaggio un po questo ispettore gli annacci molto poetico molto eh insomma che si lascia andare le cose addosso poi ogni tanto invece cioè poi alla fine lui risolve il caso invece così no e si mette prima sembra quasi fregarsene poi no il caso è nostro ce lo prendiamo noi anche se sto a fine turno e e poi alla fine sia ci si appassiona e risolve anche la cosa l'esperienza gli ha insegnato che in qualsiasi che qualsiasi mano che stringi se non è quella della vittima può essere quella dell'assassino e e poi l'ultima frase che mi era piaciuta tantissimo che che poi va di svelare quello che voglio dire è cubo e silenzioso lo spazio si negava alla vista dei tre in esplorazione acre e rovente l'odore di un'atmosfera sospesa in un non tempo allora questo non tempo cioè che io è una cosa che amo tantissimo nella poesia tu la riesci a mettere nella nella prosa nella tua prosa proprio dentro questo che è un po' te un po' altri un po' eh ma un personaggio così romantico il non tempo è una cosa che mi ha proprio preso di questa piccola storia però sfiziosa allora vado vado in ordine sulle cose che hai come dire sottolineato ma sai il ogni volta che parlo con qualcuno di questo libro mi insegna a capirlo e a capirmi perché io l'ho scritto un po' per divertirmi un po' per istinto eh come sfogo e mi rendo conto che per esempio i richiami che ci sono al cibo che sia quello bestiale del gabbiano ignaro animale per cui ignaro eh che quindi tra la spazzatura mangia anche la carne umana perché tanto ne sente l'odore del sangue bla bla e poi le tante volte o le volte in cui eh gli annacci va alla solita tavola calda a mangiare la bistecca il quando le scrivevo volevano essere come dire provocazioni o da una parte letterarie e immaginifiche pittoriche dall'altra anche sociali perché sono tempi in cui eh se sei se mangi la carne sei un mostro quando la l'umanità mangia carne da quando è al mondo perché fa parte del nutrimento basico quindi diciamo in tutta la mia nel tutto il mio essere critico nei confronti della società contemporanea che è una società falsa ipocrita quindi sempre eh come dire bonista appunto mentre io sono cresciuto in un'altra di un'altra epoca sociale con un'educazione ancora precedente e con un un occhio a un secolo che non è neanche quello passato ma quello precedente ancora il 1800 quindi veramente mi sento non rappresentato dalla contemporaneità mettiamola così detto questo era divertente no scrivere che invece c'è questo vecchio che che se ne frega che va in orario di lavoro beve mangia eh scopa capito tutte quelle cose che sono normali fanno parte del dell'istinto umano che è animale e che che amiamo ma per ipocrisia non possiamo dire di amare perché non sta bene ecco lui se ne frega perché è vecchio e se ne può fregare e quindi mi divertiva e mi fai notare che ci so che anche il cibo diventa una metafora del libro perché c'è il gabbiano l'animale incosciente davanti all'uomo animale cosciente ma peggio per istinti degli animali stessi il mio personaggio il mio protagonista gli annacci che mangia perché se ne frega e non ha paura di farlo vedere in faccia alle persone che fa quello che fa e poi ci sono le vittime che invece sono predatori sessuali che è una forma di bulimia che però nascondano la loro predazione tranne il primo la prima vittima che invece la come dire la schiaffa in faccia al mondo è il primo a essere colpito viene trovato in una riscarica perché spazzatura perché sono anche omicidi come dire in stile legge del contrappasso e in più anche la prima vittima è una mia rappresentazione letteraria è come mi vede il mondo poi annace come sono io in realtà è molto altro a milano no ieri a milano ieri mattina a milano mi chiedevano ma le donne non ci sono hanno ruoli marginali e io mi domandavo perché cosa ho problemi le donne naturalmente no però sono ruoli molto diversi tra loro questo lo lascio scoprire a chi leggerà il libro allora mi sono reso conto che mentre lo scrivevo avevo sì problemi con le donne non problemi di di rabbia o antipatia però venivo da un episodio di vita personale di conflitto con con più donne e quindi probabilmente questa cosa ha influito nel quello che ho scritto ed è meraviglioso perché mi rendo conto che la narrativa ti permette di scrivere a più livelli a più strati perché ha più spazio e come rimanendo nella metafora musicale è come un'opera una sinfonia a molte note mentre la poesia come ormai è ridotta non esistono più i poemi non li fanno più nessuno perché la gente si caca di paura fa un poema quanto è complicato mentre la poesia è una sonatina poi la poesia italiana sono sempre quattro cinque versi e niente di più l'importante è che sia in metrica in rima il contenuto non esiste e non conta nella poesia contemporanea italiana naturalmente no grazie stefano perché mi ha detto una cosa che non ci avevo pensato e oramai mi ha illuminato è vero guarda è un piacere è stato un piacere ma se vuoi continuo però senti io non so mai se intervenire perché ragazzi avevi chiesto una seconda cosa mi avevi chiesto non ti ho risposto mai chiesto il cibo la fiducia nell'essere umano però stai rispondendo no stai rispondendo da da solo insomma hai risposto da solo con questa sì mi sfiducia diciamo tra virgolette perso verso la contemporaneità verso il buonismo verso il politicamente corretto verso il volemose tutti bene e via nel senso ma dici volevo sebbene volevo sebbene rispettiamo no dici a una certa nel libro e spingi una mano che non se non è quella del dell'assassinato probabilmente potrebbe essere quella dell'assassino che è geniale come frase e questi sono i i lussi filosofici che un genere letterario sì va bene va bene ma perché ho letto e se non avessi letto non sono nato imparato ho letto alexandriuma per ho letto vabbè sono tutti qua vai non li sto a citare perché sono muoio a citarli tutti però nel senso leggere mia mi sta mi sta formando salvando sicuramente mi tiene in vita e poi parlando di scrittura mi forma mi insegna mi capacita a scrivere il mio iannaci è una versione di me letteraria benissimo vero o meglio della parte migliore di me pensate un po come debba essere però c'è anche il maigret di simenon inevitabilmente nel nel suo modo di trattare vittima e carnefice perché tu giustamente citi questo grande aspetto filosofico del libro no però non è dicotomico non ci confondiamo io sembra che dica o sei una cosa o sei l'altra simenon mi ha insegnato una cosa importante me grea lo stesso atteggiamento nei confronti delle vittime ovviamente prova empatia compassione però riesce in alcuni casi in base a chi è l'assassino e a che persona è e cosa lo motiva e lo spinge lo costringe a uccidere ad avere anche una sensibilità umana quindi non è moralista c'è la giustizia e c'è la morale io ho provato a farla mia questa questa logica o questa comunque questo sentimento e venendo poi dalla poesia non si può negare ovviamente il mio tratto di penna è quello ho imparato da questi libri questi suoi libri che leggo questi suoi libri che ho letto e questi mi hanno insegnato a stare al mondo ecco così quindi nella diciamo c'è una sorta di parallelismo poi tra poesia e narrativa il mettere dentro se stessi solo che magari nella poesia è più palese quello che mettiamo cioè come ci mostriamo perché di solito con la poesia tende magari a essere il più coerenti con con noi più genuini più trasparenti possibili mentre come dici te nella narrativa ci si può nascondere dietro a un personaggio dietro un pseudonimo dietro una maschera quindi diciamo che se vogliamo mettere tutte poesia e narrativa sotto la luce della scrittura c'è sempre qualcosa di no c'è sempre l'autore dietro c'è sempre l'autore che si che si mette 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 in mossa che si mette in gioco quindi diciamo facendo un facendo un libro di narrativa non ti sei scostato molto da quello che fai di solito ovvero mettere te stesso su su carta e quindi per dire che vengo anche a ad appoggiare quello che dicevi che questa differenza tra uno scrittore di poesia e uno scrittore di narrativa la stessa persona non cambia quando fa entrambe e trambe le cose no è sempre se stesso ma senti il credo in linea di massima dipenda dipende dal dalla persona in sé per me è così io non sarei capace di nascondermi è inevitabile metterci mettersi mettere se stessi in quello che uno scrive poi magari ci sono persone più professionali di me che riescano a fingere sai il divertente della scrittura è che veramente puoi fare tutto la narrativa mi ha concesso questa narrativa mi ha concesso un'immensa allegoria questa è tutta un'allegoria io ho scritto questo libro perché volevo uccidere il mio passato la mia la mia formazione fiorentina sono cresciuto studiato a firenze non sono di firenze non sono stati anni meravigliosi non è che mi sono trovato bene in quella città con quella gente non sono un granché loro i fiorentini e questo è stato il mio modo di farli fuori di eliminarli di levarmeli da dalla vita non mi mancano sinceramente tutto qua ecco questo è la e la narrativa mi ha permesso di farlo con eleganza le in poesia sarebbe stato una cosa noiosa e lamentosa di di me che che piagnucolo su sul fatto che che non che firenze popolo non mi ha adottato fondamentalmente non valeva la pena scriverlo e perché perché mai leggerlo per cui chi se ne frega mentre sto piccolo grande impiantito del giallo era divertente da scrivere ed è divertente da leggere al di là che poi fa anche ragionare e pensare questo allora tu sei orgogliosamente cittadino del mondo no apolite non è non hai una fissa dimora se non saltuariamente e questa cosa è bellissima insomma avere comunque la possibilità di trarne profitto umano da da dal mondo è una cosa bellissima che io praticamente non ho quasi mai potuto fare un po' girato ma come fanno i insomma i piccoli borghesi o verai che accumulano un po di soldi e però invece tu lo fai con con la tua sempre la sua verve che mi piace molto e vabbè mo te faccio una domanda stupida che però vabbè alla fine ma c'è tu questo libro scritto a parigi giusto no questo l'hai scritto a parigi volevo sapere un po cioè si sembra di anche se quando ecco comincia con questa scena della discarica ovviamente non spoilererò la fine ma comincia con questa discarica che cioè se vede proprio che è italia no è italia però invece io ci ho trovato nei personaggi molto di francese molto di quel tipo di poesia luoghi e penso che tu abbia fatto un bellissimo lavoro di equilibrio tra il dentro e il fuori dei personaggi dove vivono e come sono e volevo sapere appunto volevo chiederti se questa tua propensione al mo all'apertura verso il mondo verso quei luoghi magari forse tu magari preferirai proprio quel tipo di cultura quel tipo di apertura mentale quel tipo di luoghi comuni quel tipo di cibo tra parigi e italia insomma io ho le radici all'isola d'elba e sono stato adottato dalla città di parigi quindi sono praticamente un cittadino dell'impero napoleonico e mi sento neo napoleonico comunque ci tengo a dirlo ma bisogna sono tempi in cui ogni imbecille può dire una stronzata allora la dico la mia ok lo dico sorridendo sono una formazione storica quindi posso permettermi di scherzare su me stesso mi hai fatto notare un'altra cosa interessante del libro che tutti i personaggi sono descritti non fisicamente ma nell'ambiente in cui vivono intimamente perché portano una maschera e quindi è importante per le vittime la loro casa perché la loro casa li rappresenta realmente sinceramente e poi c'è invece gli annacci che non vediamo mai a casa lui la storia poi si svolge velocissimamente perché c'è un omicidio dietro l'altro presente in tre giorni si apre e si chiude in quei tre giorni lui non tocca letto praticamente è una cosa anche che ho voluto per per rappresentare lo come dire lo scorno non lo scorno lo scarto scusate lo scarto tra anche nel suo caso tra un personaggio pubblico che fa quello che se ne frega poi dentro di sé però vedi si lega al 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 caso che sta seguendo e quindi non non riesce a staccare comunque non riesce a tornare a casa anche perché una casa non ce l'ha eccolo la appunto e perché tornare a casa dove non c'è nessuno che ti aspetta comunque mentre fuori c'è tutto il mondo che ha bisogno di te anche se non lo sa e tu non lo vuoi ammettere è un appunto importante sai no il non è ambientato a parigi comunque ci tengo a dirlo questo è uno degli aspetti no a parte che i nomi sono italiani gli annacci e gli altri personaggi uno degli aspetti che mi è stato fatto notare da subito e che mi ha ed è stata la prima cosa che mi hanno fatto notare che quindi ha iniziato a spiegarmi che libro avessi scritto e che il protagonista l'ispettore gli annacci vive in un non luogo come dici te non è specificato può essere una città italiana sicuramente probabilmente borghese piccolo borghese Firenze parlavamo di Firenze Milano gli annacci Milano può darsi una città così diciamo non una città di mare il mare non viene citato per cui una città borghese ma non 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 col mare quindi con un'altra educazione con una brutta educazione e e allora mi sono è stato il primo elemento su cui ho ragionato e mi sono reso conto che la ragione per cui la storia è ambientata in in un non luogo è perché il protagonista è fuori dal tempo e anacronistico diciamo ma volontariamente anacronistico non per incidente non se ne rende conto è anche ottusamente infantilmente anacronistico tant'è che non ha il cellulare ma c'ha il cicalino perché l'hanno obbligato una cosa per come dire per trovarlo doveva portarsela con sé non può farsi i cazzi suoi comunque un ispettore di polizia però non ha rifiuta il cellulare e allora vivendo lui fuori dal tempo ho pensato che ho pensato mi sono reso conto che l'ho anche messo fuori dallo spazio perché a lui non gliene frega nulla di essere nel 2022 quando è uscito il libro o nel 2015 quando l'ho scritto come non gliene frega nulla di essere a firenze a milano a parigi a roma il punto è che quando suona il telefono sono rotture di coglioni ma il nome dell'ispettore abbiamo nominato è un tributo a al grande iannacci assolutamente si è un omaggio a vincenzo iannacci ci tengo a dirlo mi è piaciuto tanto ma sono piccole gioie dello scrittore poterlo dire ieri mattina a milano nella sua milano e ho tolto la j e ho messo la i per due ragioni la prima per non fa il fenomeno rispetto agliannacci o la j sarebbe stato volgare secondo me eccessivo come omaggio il rispettoso del della dell'immensa anima poetica lui era un poeta nella carne vincenzo e in secondo luogo anche perché anche questo è un indizio sulle maschere no mi rendo conto mi sono reso conto dopo come lo è jim rizzo invece di jonathan rizzo quello è un inizio scherzoso però anche togliere la j e poi è la mia lettera e anche la mia lettera diciamo io mi chiamo jonathan con la j scusate e quindi anche questo era un indizio no una sottrazione un voler sfilarmi dalla scena del crimine come ha fatto jonathan rizzo che si è sfilato dalla scena del crimine di questo libro mandando avanti l'alias l'alter ego lo pseudonimo jim rizzo è una delle tante chiavi di lettura di questo libro 60 pagine ed è complicatissimo che vi devo dire ecco senti manca un quarto d'ora dai il tempo vola purtroppo tra un interruzione poi si va bene sioni che vanno e vengono e io se tu sei d'accordo passerei certo certo alla poesia alla poesia e ma anche poco è perché voi devo fare una domanda sulla radio comunque passiamo da un non luogo e non tempo invece a un luogo che si può toccare a volte che è la famiglia e tu scrivi una poesia bellissima che volevo leggere spero che non tocchi le tue le corde quelle che tu magari non vuoi toccare ma tanto io la leggo uguale poi ne parliamo che allora il padre aspetta quando avevo un padre si voglio fare una premessa questa poesia ha commosso molte persone anzi tutti quelli che l'hanno letto praticamente però tengo a sottolineare che mio padre non è morto io intendevo dire usando il passato che quando viveva con me in casa poi per ragioni diciamo di famiglia di altra vita che che ha scelto è andato a vivere da un'altra parte in una sera d'inverno in cui mi sentivo solo mi sono ricordato un aneddoto della mia infanzia e ho sentito la necessità di scriverlo io questa poesia poi l'ho mandata a mio padre anche perché dopo che l'ho resa pubblica mi sono iniziate ad arrivare dei messaggi per capire cosa era successo e quindi si era creata una sorta di polverone intorno a lui lui non ha nessun social è più orso di me gliel'ho mandata lui l'ha letta ovviamente non gli è piaciuta ovviamente mi ha detto che non era vero nulla che non si ricordava nulla ma fa parte del del personaggio se vogliamo dire così gliel'ho anche letta il giorno del suo compleanno quest'estate in diretta a un festival di poesia in diretta cioè di persona a un festival di poesia all'isola d'elba e è stato anche lì un grande successo poi al festival mi hanno cacciato adesso vogliamo sapere perché ti hanno cacciato è certo perché ho fatto una sparata contro l'amministrazione del del mio paese è un festival itinerante la sera dopo ho fatto una sparata contro l'amministrazione culturale del mio paese di Marciana Marina e quindi mi strappando i fogli che avevo preparato lanciandoli contro il pubblico ho detto mi rifiutavo di leggere a Marciana Marina che è casa mia perché l'amministrazione eh mi impediva da anni di presentare i miei libri eh e quindi per poter leggere ad alta voce in casa era dovuto venire l'organizzatore che era un poeta americano a invitarmi e questa cosa era vergognosa e ridicola a quel punto il poeta americano in quanto americano quacchero e e moralista mi ha cacciato dal festival questo è successo scusa è un grande anarchico quindi dai ci può stare ci sta schiena dritta comunque scusa leggiamo la la poesia del padre ormai l'hai l'hai spoilerata io eh la leggo vai dai ok vado quando avevo un padre beveva ma come tutte le persone che bevono non voleva bere da solo allora ad un certo punto della notte ma forse sembrava notte solo a me bambino veniva a svegliarmi nel mio lettino piccolo brutto letto vuoto di bambino e passavamo la notte quella che a me bambino pareva essere la notte insieme ad ascoltare vecchi dischi vecchi per un bambino questo è ricordo più prezioso di mio padre la musica ora che indosso gli stessi anni di quanti lui non sapesse abitare mentre beveva e cambiava per sé gli lp volendomi con sé lì voltandomi le spalle stretto ai suoi meriti licurizia amara carezza persa umana nel gorgo scuro dove non riusciva a stare solo ora che sono solo e so che non ho nessuna famiglia a cui fare sentire le canzoni che amo e che mi rendono triste troppo triste sempre più triste ad ogni nota blues ora che non conosco mano da prendere per per condividerle ora che sono solo anche questa sera e che il giradischi tace io sono un locorroico stonato romantico abbandonato rottame che nessuno ascolta ora che sono diventato quel pessimo uomo di mio padre è bellissima spero spero di averla letta in maniera consona al riscontro che che merita e vabbè anche io ho un insomma un rapporto altarenante comincia con mio padre insomma e mi fa essere sempre adolescente è come se mi avesse fatto rimanere sempre adolescente quando c'hai i primi contrasti i primi odi e non c'è nonostante la mia età non sono mai uscito da quella fase e vabbè volevo farti qualche insomma una domanda su questo ma hai risposto già in parte se vuoi parlarne ne possiamo parlare tranquillamente ora al di là del dell'aspetto psicanalitico del rapporto col padre diciamo che ho imparato a ad accettare che le cose siano così e basta per cui lo prendo come quando è e non ho più speranze aspetto che muoia tutto qua vediamo quale brutta poesia scriverò la prossima volta sul fronte invece prettamente poetico quindi tecnico va bene anche a me piace ma non perché l'ho scritta io mi rendo conto benissimo che quella sera ero particolarmente ispirato il che mi insegna che quando uno scrive con sincerità e non si nasconde e parla guardandosi nudo allo specchio il più delle volte il materiale che che ne esce buono sì non so quale aggettivo usare però diciamo non è non è non è fecale ecco mettiamola così per cui il dolore funziona ma non solo il dolore anche l'amore non credete insomma il dico in generale se l'amore è sincero quando ti prende per le ali o per le orecchie ti fa volare ti porta a volare anche lì si scrive bene insomma non solo il dolore diciamo quella era un ricordo eh forte onesto perché comunque alla fine il punto non era di scrivere mio padre ma era guardarmi e vedere come crescendo si rischia o di più delle volte si finisce per diventare nel nostro caso di uomini di maschi eh la ripetizione di dei nostri genitori in questo caso del padre insomma capita anche alle donne ovviamente a tutti era un'analisi che ho provato a fare in forma poetica che poi è come come scrivo io insomma che sia giallo o rosa è sempre così comunque senti salutiamo le nostre amiche che ci hanno fatto dei commenti qui sotto Agnes Ilaria mandiamo un grosso abbraccione a tutti e due poi li leggo volentieri Adriana anche ok e allora Matteo volevi aggiungere qualcosa o no allora di altro che allora ehm Giona sei allora sei referente del di rinascimento poetico per la Toscana e l'isola d'elba giusto sì vabbè l'elba lo aggiungo io ora ho iniziato a dire l'arcipelago toscano mi sto allargando il mio imperialismo napoleonico non ha esatto non ha pietà né pazienza punto alla Corsica ok conquistiamo la Corsica assolutamente devi tornare italiana la poesia ha bisogno di essere di un aiuto per essere divulgata in che in che stato è la poesia si sta muovendo è ristagnante perché tu fai anche fai anche radio dove porti anche dei poeti alla radio no quindi c'è bisogno di eh di di aiutarla a a uscire a a muoversi oppure vari c'è c'è chi la la l'ascolta la ancora la poesia questi programmi che facciamo cioè servono che lo possiamo fare noi per la poesia in generale cosa farei per noi diciamo che meno male lo sappiamo che ci 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 aiuta a vivere meglio ci aiuta in tantissime cose ma non sempre non sempre però noi torna conto cosa possiamo fare per la poesia allora il problema di base è che l'Italia è un paese ancora legato da questo aspetto culturale a una divisione quasi nei comuni medievali per cui si tendono le persone gli autori gli scrittori eh a muoversi nella propria area geografica i mezzi nuovi di come nuovi intendo nuovi per la mia vecchia generazione diciamo mezzi social media eh media aiutano a a rompere queste barriere però il ovviamente siamo ancora al alla preistoria del della funzionalità io ritengo almeno siamo ancora lontani cioè va bene farsi il piccolo canale il proprio piccolo canale televisivo e parlo di televisione si vede quanto sono vecchio televisione è morta chiaramente il piccolo canale televisivo in streaming che arriva a attraverso i feedback ai conoscenti dei conoscenti dei conoscenti però è l'inizio di una potenziale rivoluzione di comunicazione però ancora non abbiamo capito secondo me come usarlo tant'è che siamo contenti se queste dirette sono viste da che ne so duecento persone o magari per chi vive in città più grandi eh mille ma è sempre sono sempre numeri risicati comunque siamo ancora lontani il a a far fruttare quello che di buono stiamo provando a fare la poesia la poesia ha bisogno eh la poesia non ha bisogno di niente siamo noi che abbiamo bisogno della poesia perché appunto eh è un nella migliore delle ipotesi è uno sfogo nella nella peggiore è l'unica cosa che sappiamo fare il è bene però divulgare comunque anche se non ci ascolta nessuno anche se chi lo fa sono quattro miseri gatti e sono sempre gli amici parenti le fidanzate eh anche se diventiamo un ci ristringiamo come comunità io penso e dico sempre l'alternativa qual è starmene solo in casa a lamentarmi allora è meglio se mi lamento accanto a voi che però poi mi rispondete e mi fate capire che magari sto sbagliando a lamentarmi o magari ho ragione su alcune cose e non mi sento più solo e magari poi leggiamo una poesia di Tarquinia o di Rusconi oltre che quelle del sottoscritto e allora diventano già due poesie con la mia su tre non dico che cambiamo il mondo però sicuramente tenendo le mani in tasca non aiutiamo nessuno e neanche noi stessi le io sono anarchico e bicito visto che siamo in conclusione Kennedy e Don Milani Kennedy che non era un santo una cosa qualche cosa buona l'ha detta anche lui lo dico da storico la famosa frase non chiedere quello che il tuo paese può fare per te ma quello che tu puoi fare per il tuo paese lui questa la possiamo mutuare come immagine parla di amore Kennedy di amore per quello che appartiene a tutti noi allora se la poesia non è egoista egocentrica ed è comunitaria e amiamo diffonderla e allora diffondiamola perché facciamo bene alla poesia e anche un po' a noi stessi e concludo e poi lascio a voi giustamente padroni di casa l'ultima parola con Don Milani Don Milani era uno un prete di quelli combattivi no un prete di quelli proletari diciamo che che stava accanto agli ultimi come dovremmo fare tutti noi come dovrebbero fare anche i poeti non nei salotti buoni dei maestri della poesia con le ragazzine a fare gli darem ma per strada a parlare con quelli che pensano che la poesia sia solo per l'elite magari invece con la poesia gli cambi non la vita ma la giornata sì e non è poco comunque Don Milani diceva è inutile avere le mani pulite se le si tengono in tasca questo vale per il verso inutile scrivere bellissimi versi se poi non li regali a nessuno finito aggiungo solo che comunque sia noi ci sguazziamo in questo non tempo e non luogo che è la poesia e quindi dai lascio la parola al mio collega ti ringrazio è stata un'ora che è volata io non fai bene tu a fare le dirette da due ore noi purtroppo non possiamo allora aspetta fammi raccontare questa allora sto organizzando uno speciale di natale il mercoledì 28 dicembre con amico poeta filosofo narratore marco incardona in diretta probabilmente tra le tre e le quattro ore proprio a delibitum il radio è naturalmente il radio al bar della poesia radio grad prima o poi organizzeremo allora una maratona online che perché no perché no deve fare niente noi siamo arrivati alla fine della nostra della nostra diretta alla fine della nostra ora e vabbè ringraziamo Jonathan Rizzo per aver risposto alla nostra chiamata per essere qua come ospite per averci illustrato il suo il suo ultimo libro hai copertina da farcelo vedere ho il disegno originale il disegno originale alle alle sue spalle bellissimo dell'illustratore di Firenze un mio caro amico david jack lanzini ottimo che sta odiamo vabbè allora ci vediamo lunedì prossimo a salati lo saluto Matteo Mereu ah ok lo conosco sì sì lo conosco quindi eh c'era anche c'era un'ennesima diretta interessante da non perdersi Mereu è famoso per le sue spiritosaggini io vi avverto non è un problema non è un problema non è un problema va bene la prossima dai facciamo di tutti di ogni qua quindi va benissimo niente allora ringraziamenti fatti grazie ancora e buona serata e ci vediamo eh lunedì prossimo e mi raccomando con i video fate fate spammate mandateli ovunque invitate commentate che rimangono sempre online ciao a tutti alla prossima